Scegli oggi il tuo domani. Buongiorno, sono Vincenzo Torretta, presidente del corso di laurea di Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente. Quello che ho pronunciato prima non è soltanto uno slogan, è un invito ad affrontare questo momento decisionale con molta attenzione. Mi permetto di darvi un piccolo consiglio. In questo momento tenete conto di quelli che sono i vostri interessi, la vostra indole e le vostre passioni, perché lo dico sempre ai miei studenti, non c'è cosa più bella che fare un lavoro che si ama fare. Ecco, la scelta di oggi probabilmente condizionerà un po' tutte le vostre scelte, soprattutto in campo lavorativo, che farete domani. Detto questo, sarei contento se la nostra proposta formativa vi interessasse. Noi ci occupiamo di Ingegneria dell'ambiente, il nostro corso di laurea coniuga sia tematiche che attengono alle discipline dell'ingegneria civile ambientale con altre tematiche che riguardano invece la sicurezza negli ambienti di lavoro. Questa scelta si è rivelata una scelta azzeccata di successo, tant'è che il nostro corso di laurea ha ogni anno moltissimi matricolati e ha la percentuale più alta in Italia di laureati che riescono a trovare lavoro entro un anno dal conseguimento della laurea. Questo perché il mercato del lavoro guarda con molta attenzione al profilo professionale che noi cerchiamo di formare. Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Andrea, ex studente del corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente. Il percorso di studi che ho scelto è per me stato molto stimolante e mi ha permesso di crescere tanto. Il corso offre numerosissime opportunità di tirocinio in differenti tipi di aziende che si occupano ad esempio di progettazione, consulenza, qualità e formazione. Dalla mia esperienza e parlando con i miei vecchi compagni di corso ho potuto constatare che le offerte di lavoro sono molte nel nostro settore, già dalla triennale. Ovviamente poi se si vogliono accrescere e affinare le conoscenze è possibile proseguire con il percorso magistrale. Scegli oggi il tuo domani. Grazie.